Le donne sono brutte perché rappresentano donne abbrutite dal brutto mestiere. È l'interno di una casa d'appuntamenti. Non c'è sfoggio di tecnica. Il disegno è bizzarro. Le forme non si sa dove incomincino o finiscano. Il quadro, però, costò all'artista un lungo travaglio. Fu esposto trent'anni dopo fatto. Il quadro, in grandi dimensioni, è uno sforzo prodigioso a scoprire nuovi mezzi di espressione. Il quadro forse non è meraviglioso, ma fa epoca e segna una svolta nell'arte. Non ha la sicurezza dello studio, ma è di straordinario vigore. Esso rappresenta un primo esperimento di intellettualismo astratto, un tentativo di sviluppare e applicare le nuove teorie che dovranno poi cristallizzarsi nel cubismo.